Un fine settimana funestato dagli incidenti, due vittime giovanissime e un adolescente in fin di vita. Thomas Tavola, 19 anni, di collegianza, si è spento sabato sera poco dopo l'arrivo in ospedale, travolto da una pianta mentre stava facendo legno nel bosco di famiglia insieme agli zii e ai cucini. L'infortunio mortale in un bosco tra Sirono e Dolzago, il tronco ha ceduto improvvisamente e lo ha travolto colpendolo alla testa. Da come si è alzato in volo l'eleambulanza, trasferito d'urgenza al Manzoni e morto per il grave trauma cranico. Il lutto, l'intera comunità. Giardiniere esperto, Thomas, aveva la passione per il calcio. Giocava con la maglia numero 9 nell'Aurora Calcio di Olgata e Molgora. Lascia i genitori e due fratelli più grandi, martedì, i funerali. Stesso tragico destino per la studentessa cinese di 24 anni, residente a Modena, coinvolta nell'incidente stradale accaduto sabato mattino a lungo la Stratale 36, all'altezza di Garbagnate Monastero. Viaggiava in direzione sud, a bordo della sua Peugeot 108, si è schiantata contro un furgone. All'ospedale di Leccola hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le ferite erano troppo gravi. È invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione generale al Circolo di Varese il ragazzino di 15 anni di Lesmo, che nel tardo pomeriggio di sabato è stato travolto sulle strisce pedonali della SP51 La Santa a Campo Fiorenzo di Casatenovo. A investirlo è stato un 29enne di Pessano con Bornago, che non lo avrebbe visto. È stato denunciato per lesioni gravi. L'adolescente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà l'evolversi delle sue condizioni. Lunedì pomeriggio un altro violento scontro tra due auto a Liveto Lario lungo la strada provinciale 583 nei pressi dell'abitato di Onno. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso. Due le persone coinvolte, un ragazzo di 19 anni, molto grave, e un giovane di 30. Grazie per la visione!